Grazie a voi, grazie agli amici di InScibolet, a Carmelo, a Giuseppe, a tutti gli amici di Sofia, in primis Piero Coda che ha fatto una straordinaria, come sempre, relazione. Ormai devo dire che i nostri discorsi disegnano sempre più esplicitamente una sinfonia, perché la concordanza nelle differenze, ovviamente, diventa sempre più sostanziale. Questo mi rende felice e proverò a dire due cose anch'io sul tema. Anch'io sicuramente non dirò tutto quello che ho scritto, ma poi se faremo qualcosa, beh, faremo sì col dizionario, quindi sarà tutto materiale per il dizionario. Il mio sarà un approccio, come è inevitabile, metafisico, ma in realtà, secondo me, da tempo ormai mi sto sempre più convincendo, sono più radicalmente metafisici molti teologi di quanto lo siano molti filosofi. Quindi non potrò non chiamare in causa, devo dire, uno dei grandi padri cappadoci, sul quale abbiamo assistito a un bellissimo seminario poco tempo fa con gli amici di Sofia, Basilio di Cesarea, fratello di origine di Ninsa. Siamo nel quarto secolo. Secondo me, ritornare a Basilio mi ha fatto tanto bene per ripensare proprio il tema dell'unità. E ho notato come certe cose che Piero ha sottolineato rispetto a Rosmini siano in qualche modo davvero già operanti. Ma provo a dire qualcosa, provo a dire qualcosa, rilevando anzitutto come unità, identità, siano concetti che, come dire, accompagnano la riflessione filosofica dall'inizio, dall'inizio, come se fare filosofia non avesse potuto che significare appunto fare i conti in primis con questo concetto unità. Perché? Perché il filosofo, gli esseri umani, interrogandosi intorno all'essere delle cose tutte, si intervono in primis intorno alla loro delle cose condizione di possibilità. ma la loro condizione di possibilità è ciò che le rende innanzitutto essenti, le fa essere appunto, come loro archè, come ciò che tutte le abbraccia, perché c'è la condizione di possibilità di tutte le cose, la filosofia, mi insegnava il mio maestro, nasce grande, nasce come sguardo sulla totalità, appunto, si interroga intorno alla condizione di possibilità di tutte le cose, cioè ciò che tutte le unifica. Quindi la filosofia non può che essere sguardo sull'unità innanzitutto. Ma cominciamo a fare subito una piccola riflessione in rapporto a questa cosa sulla quale, secondo me, meriterebbe tornare a ragionare. Faccio un piccolo ragionamento facile, speculativo. Riconosciamolo. Io credo non si possa confutare questa affermazione, ma siamo qua per discuterne. Il fatto che se ogni cosa ha la propria condizione di possibilità in un principio che tutte le abbraccia, le cose, allora è chiaro che nessuna cosa, in senso proprio, può darsi l'essere da sé. Ma è evidente anche per un semplicissimo fatto che se darsi l'essere, la cosa sarebbe già. Per darsi l'essere dovrebbe già essere banale, direi, no? Oltremodo banale, ma spesso le banalità meritano di essere ricordate. Le cose non possono darsi l'essere, hanno una condizione di possibilità che tutte le unifiche, che se ci dessero l'essere sarebbero già, quindi non se lo danno. Le cose, gli essenti, direbbe un metafisico come Severino, gli essenti non sono da sé, si trovano ad essere. Questo è il punto. L'essere è dato agli essenti. Necessariamente non c'è scampo, cari filosofi, non c'è scampo. Ma se questo è vero, c'è una conseguenza che dobbiamo prendere in considerazione. Inevitabile. Il mondo, sembra strana, ma è così, non è mai tutto. O meglio, il tutto, paradosso dei paradossi, non comprende tutto. Se tutto è fatto essere, c'è una condizione di possibilità che eccede il tutto, ma che, attenzione, questo è importantissimo, non può essere semplicemente e, finalmente, direi Begel, il maestro, astrattamente altra dal tutto, perché se fosse altra dal tutto sarebbe ricompresa nel tutto come una delle infinite alterità di cui il tutto non può che essere fatto. Quindi c'è una eccedenza tale per cui si deve riconoscere, sarà aporetica la cosa, ma non c'è altra possibilità che, attraversare questa aporia, appunto, il tutto non è tutto. Il tutto, come dire, non abbraccia tutto, non comprende tutte le cose. C'è una eccedenza che però non rinvia a nulla di altro dal tutto. Quindi il tutto rimane intrascendibile perché è tutto, altrimenti non potrebbe essere tutto, il paradosso dei paradossi. Ma è, come dire, ferito, altrepassato da un qualcosa che in primis dobbiamo dire non è un qualcosa, non è un qualcosa. Mi dispiace, ma qualcuno potrà dire, ma è contraddittorio. È così, non c'è scelta, non c'è via d'uscita, se vogliamo pensare rigorosamente. Se l'essere alle cose viene dato, c'è un principio che tutte le abbraccia, le unifica tutte, nessuna cosa si dà l'essere da sé, quindi c'è una eccedenza rispetto a tutte le cose che però non rinvia a nulla di altro dal tutto, che se fosse tale sarebbe ricompreso nel tutto, così come se le cose si dessero l'essere sarebbero già, quindi non se le possono dare, non se le darebbero di fatto. Ecco, quindi tutte aporie che vanno tenute presenti. Quindi, per stare al tema del nostro summer school, già da queste piccole riflessioni, banali, se volete semplici, ma speculative, dobbiamo riconoscere che l'essere delle cose è per definizione grazia ed evento. Non c'è scelta, non è utile che facciamo finta di avere altre posizioni. È grazia ed evento, è gratuito, perché io non ho deciso di essere, nessuno decida di essere, ci troviamo ad essere per l'appunto in virtù di un dono che rinvia ad una non-cosa di cui ogni cosa parla, per il semplice fatto che è, che ogni cosa indica per il semplice fatto di. Ma questa eccedenza che non è qualcos'altro così. E se non è qualcos'altro, diciamocelo chiaramente, speculativamente qui, senza chiamare in causa teologie di alcun genere, non possiamo che riconoscere che questo principio, questa archè, questa unità originaria, non è né una né molteplice e qui la filosofia ha già attraversato questa problematica, perché non è né una né molteplice. Perché se il molteplice avesse come proprio principio una semplice unità, e qui mi dispiace, il gigante plotino è inciampato, è inciampato. Se avesse una unità al principio, questa unità non riuscirebbe a rendere ragione dei molti. Infatti poi in plotino è il nus che è ragione dei molti, non è l'uno. Ma l'uno cos'è? Se non è ragione dei molti, non è principio dei molti. Se l'uno è principio dei molti in quanto uno, non può giustificare l'essere molteplice del molteplice. La tragedia del platonismo e del neoplatonismo è racchiusa in questo piccolo elementare rilievo. Ma il principio non può neppure essere sic che sempliciter molteplice, perché se fosse tale sarebbe già il mondo. Sarebbe mondo, è il mondo che è molteplice. Quindi questa eccedenza che non rinvia a nulla di altro, non rinvia né ad uno, è qualcosa che non è uno e che non è molteplice. Perché se fosse molteplice sarebbe mondo, sic che sempliciter, e non sarebbe il principio del mondo. Quindi il principio, l'unità di tutto, non è né uno né molteplice. Diciamolo ce l'ho chiaramente. È negazione del molteplice, è negazione dell'uno. Ma chi, qual è la figura che storicamente si è posta in questo modo? Diciamolo pure, cari filosofi. Qui la trinità, non c'è altra figura che abbia provato, saputo, pensare un'unità che non è unità. È una molteplicità che letteralmente non è molteplicità. Perché l'unità è di quel principio, l'unità stratta è di quel principio che non potrebbe rendere ragione del molteplice. E la molteplicità sarebbe mondo, punto. Sic che sempliciter. Quindi non è neppure una unità dei molti. Perché l'unità dei molti è l'universale astratto che tutte le aporie del Parmene del Platonico, non sto qui a ricostruirle, sapete meglio di me, se fosse unità dei molti sarebbe altro dei molti. Il problema del terzo uomo è che non è unità dei molti. Via, via, tutto ciò che evidentemente non riesce a dire questo enigma, questo misterium trinitatis. L'unico modo per pensare il principio. Cos'è allora l'unità? Prinitariamente intesa è non l'unità dei molti che è condannata a naufragare come tale, ma l'unità nei molti. E qui diciamolo allora in modo esplicito. Cosa vuol dire unità nei molti? che è unità solo nel distinguersi, nel farsi molteplici, nel distinguersi dei molti. L'unità è unità. Non c'è nessuna contraddizione di tipo platonico e neoplatonico tale per cui se si è uno, si è altro dei molti, se si è molti, si è altro da due. No, l'unità è unità solo nella molteplicità. In ognuno dei molti può, solamente nei molti, può mostrarsi come unità. Questo accade in primis nell'archetipo costituito appunto dalla molteplicità trinitaria, delle persone trinitarie. Dove l'unità è qui, è bellissimo, è questo che ho fatto chiaro prima, sul prima, sull'unità, prima e dopo. Benissimo. Ma qui il grande pensiero trinitario, quello che poi spetta a noi, il nostro piccolo, portare avanti, sviluppare, a partire dalle grandi premesse che abbiamo alle spalle, comporta questo, comporta che si pensi davvero l'unità come ciò che si manifesta perfettamente nel distinguo essere delle tre persone. Poi vedremo, Basilio lo dice chiaramente, ma anche che ordi Nazianzo amico di Basilio lo dice chiaramente. Alle tre persone non manca nulla delle altre tre persone, ma nessuna delle tre persone manca qualcosa, attenzione, attenzione, che se no saremo nel mondo della città. Vi abbiamo detto, nell'unità del principio l'uno non è uno e il molteplici non è molteplici. Ricordiamo questo, ma è ancora poco, è ancora troppo vago, detto così. Diciamo che l'unità paradossale della trinità è ciò che rende diverse le persone, non che tolera, sopporta la diversità, è ciò che le rende diverse. È nell'unità che essi si distinguono, è per l'unità che si distinguono. Questo è, come dire, qualcosa che i filosofi faticano a pensare, non hanno mai pensato, non hanno mai pensato, neanche il grandissimo Hegel ha mai pensato, che continua a lavorare sulla dialettica, unità e molteplicità in un certo modo, che poi vedremo, anzi oggi non ce la farò a dire tutto, ma insomma, quindi, in Dio, nel Dio trinitario, nel principio inteso in questo modo, l'unico modo di intendere il principio, se no non pensiamo il principio, questo va detto ai filosofi, ai miei amici filosofi, non pensiamo il principio, va bene, amici come prima, ma se lo vuoi pensare, non puoi che pensarlo trinitariamente. Questa è la sfida che il principio trinitario oggi deve porre ai filosofi. Ragazzi, vogliamo pensare il principio, vogliamo tornare a pensare l'archè? non si può che pensarlo trinitariamente. Tutte le altre vie sono naufragate. Allora, allora, cosa vuol dire che non è uno l'uno nella trinità e molti non sono molti in trinità? Vuol dire, c'è proprio attenzione, che identità e differenza non differiscono, perché se ho detto che l'uno è tale solo nel distinguersi, vuol dire che io vedo l'uno dove vedo i tre della trinità e vedo i tre solo dove vedo l'uno. Questo vuol dire non differiscono che vedendo i tre vedo l'uno, vedendo l'uno vedo i tre, se no, non ha nessun senso. Allora, l'unità e la differenza nel principio non differiscono. Attenzione, l'identità non è altro, quindi tutte le aporie nepratoniche e nepratoniche saltano, non è altra dalla differenza, perché nei diversi essa appare perfettamente proprio nel e per il loro diversificarsi. Non, ripeto, nonostante l'uno apparirà sempre come diverso e l'identità apparirà sempre nella tipicità delle persone. Vedendo l'uno cosa vedo? la domanda, vedo i tre, vedendo i tre cosa vedo? Vedo l'uno. Questo vuol dire che identità è differente, non differiscono, se no, non ha nessun senso. Quindi, diciamo che il diversificarsi, l'essere diverso nella trinità è tale, il diverso è diverso, perché non lo è. E l'identico è identico solo perché non lo è. mentre in questo mondo, ecco il salto che Piero dimenticava prima, no? C'è un salto, certo che c'è un salto, ma paradossale, paradossale, no? Mentre in questo mondo c'è proprio da fare. Ogni forma di identità identifica in parte, quindi manchevolmente, i diversi, lasciando qualcosa nei diversi, non compreso dall'identità loro. Qualcosa dei molti è semplicemente diverso, qualcos'altro è identico, no? Fattore comune, la matematica, il mondo delle idee, no? Tutta la storia dell'Occidente, dalla filosofia alla matematica, questo fattore comune, no? Nel mondo non c'è, non siamo in grado, attenzione, a prescindere dalla rivelazione trinitaria, di riconoscere che questo scarto per cui, appunto, si determina una situazione asimmetrica, per cui da una parte le cose sono espressioni dell'identità, da un'altra parte sono espressioni della differenza. Ma questo significa fare dell'identità qualcosa di diverso dalla differenza, proprio da fare. Se per un verso le cose sono identiche, per un altro verso, come si dice, normalmente sono diverse, è chiaro che noi facciamo dell'identità in questo mondo, questa è tutta la filosofia occidentale, no? Facciamo dell'identità qualcosa di diverso dalla differenza, ma in questo modo confondiamo le acque e produciamo una aporia, certamente, per cui dobbiamo riconoscere che le cose insieme si distinguono e non si distinguono, ma noi distinguiamo appunto l'universale dalla singolarità, dall'individualità, noi distinguiamo l'unità dalla moltiplicità, noi distinguiamo il comune dall'irriducibilità, distinghiamo tutte queste cose in questo mondo, cosa che non possiamo fare se parliamo di trinità. in questo mondo si dice anche in ergo filosofico per un verso distinguiamo, per un altro verso identifichiamo. Il principio trinitario rende anche, ecco perché è l'unico principio che rende anche ragione di questa asimmetria che si viene a determinare nel mondo di cui facciamo parte, nel mondo della finitezza, nel mondo perché il principio trinitario, quell'archeia in cui l'uno non è uno, in molti non sono molti, in cui l'identità è identica alla differenza, solo quel principio, attenzione, può farsi ragione perché l'identità, ripeto, è identica alla differenza anche del differire dell'identità dalla differenza. Se l'identità è identica alla differenza deve darsi anche, non può non darsi nel mondo e si dà infatti una differenza tra l'identità e la differenza, che però nel principio trinitario è negata. Questo è il punto, questo è il punto. Ma può negarla perché si dà nel mondo una differenza, si dà una asimmetria, una aporia asimmetrica nel mondo. E allora, solo a partire da questa, vuol dire, premessa speculativa, possiamo andare a leggere cosa ci dice Basilio di Cilarea. e proviamo a vedere. Beh, ci dice anzitutto, mi sto riferendo soprattutto al testo straordinario sullo Spirito Santo, altrettanto sullo Spirito Santo, un testo incredibile sul quale continuerò a lavorare, in cui ci viene detto, parla dello Spirito, è l'elemento relazionale, il subsistence che diceva appena per la coda, cos'è la grande novità, la straordinarità del principio trinitario, che qui la relazione diventa una cosa di sussistente, non è, come dire, un'accidentalità, E' una cosa di sussistente. E chi è la relazione sussistente? E' lo Spirito, lo Spirito, innanzitutto. Al punto tale che dice Basilio lo Spirito sta con Dio nel medesimo rapporto che lo Spirito che è in noi ha con ciascuno di noi, ecco qua, istituito un parallelo pazzesco che non nega però lo scarto, questo è il punto, non nega lo scarto. Perché? perché come è in noi lo Spirito? Basilio lo spiega benissimo, io sintetizzerò perché non posso fare altro. Cosa fa lo Spirito? Ci mostra che in virtù di questa presenza in noi dello Spirito, solo in virtù di questa presenza, noi possiamo farci, diceva prima appunto Piero, liberi e nuovi. Lo Spirito è ciò che ci rende nuovi. e qua sembra una formazione così bella e evocattiva, ma è fondamentale. Uno dice vabbè è bello essere nuovi, è bello rinnovarci, ma perché? Non è che sia bello? È questione che lo Spirito può renderci nuovi e perciò stesso liberarci, nonostante tutti noi si abbia un passato che ci condiziona. C'è una storia che ci condiziona, che ci incatena in qualche modo. Ecco, per dirlo alla Kant, lo Spirito c'è che fa sì che noi si possa essere al sob, come se quel passato non ci condizionasse. Ci libera e cos'è questo passato che ci condiziona, da cui lo Spirito ci libera? Attenzione! Ci libera liberandoci, dà un'idea che è proprio quella del passato, che vede, che ci vede costretti a decidersi continuamente, deciderci continuamente tra unità e molteplicità. Questa è, come dire, la vera condanna del pensiero occidentale. Il pensiero occidentale ha sempre, si è sempre sentito in obbligo di decidersi per l'unità. Ma tutta la filosofia del Novecento è questa, no? Un prendere le distanze dal pensiero identitario come un pensiero che ci ha incatenato, maledetto, no? Per liberare la differenza. Viva la differenza, semplifico in maniera brutale, ma insomma, la differenza, la differenza, quello che volete voi, contro l'identità. Tutto l'Occidente è stato questo, no? Siamo costretti, il passato ci ha costretti, ci costrette a deciderti sempre. Invece, lo Spirito è quello che ci libera innanzitutto da questa necessità di deciderci come se fosse possibile poi deciderci tra l'unità e la molteplicità. E poi Basilio ci dice, si chiede, ma chiediamoci innanzitutto cos'è unità? È la domanda delle domande, no? Abbiamo detto prima qualcosa, come non si deve pensare l'unità? Ecco. E dice, è bellissima questa, Basilio dice che questa unità in quanto comunione della divinità c'è lì e ciò è proprio questa unità che ci rende nuovi e liberi. Ma perché? È bello perché lo dice lui, no? Perché? Perché? Solo perché ci rende nuovi. Cioè, cosa devo dire? Essere nuovi, essere riportati è una condizione aurorale, iniziante, iniziante. Ma all'inizio non si è uno e non si è molti, si è, dice benissimo Basilio, unici. Unici! Lo spirito, dice Basilio, cito, non è uno fra molti ma è l'unico. Non sono sciocchezze terminologiche, sono fondamentali queste presentazioni. Solo se capiamo cos'è l'unicità possiamo capire in che senso lo spirito ci rende nuovi. Cioè, no? è una bagianata, ci rende nuovi perché ci rinfresca un po', ci ingiovanisce un po'. No, ci riproietta nella dimensione dell'inizio. Ma all'inizio non si è neun e molti, l'inizio è inizio, punto. Si è unici. E dice, lo spirito può rinnovarci in quanto ci rende unici, come unici sono il padre, le figlie, la felita, in quanto questo mistero trinitatis, si trova tanto, abissalmente, dice Basilio, lontano dalla natura creata. Quindi paradossalmente si può rinnovare proprio perché è quello scarto di cui parlava Piero, abissalmente distante dalla natura creata dove invece l'unità è sempre diversa dalla molteplicità. No, è abissalmente distante e allora può rinnovarci. Ma cosa vuol dire abissalmente distante? Ma è chiaro, prima ho detto attenzione che l'eccedenza non è un'eccedenza ricordata all'inizio di qualcos'altro rispetto al tutto. No, no, è l'eccedenza dell'unico rispetto all'unità e alla molteplicità. Unicità e irripetibilità. Questo è l'inizio. O si è così o non si sarà mai nell'inizio. Si è nell'inizio perché lo spirito riesce a infondere in tutti noi questa come dire unicità questa dice anche un'altra parola solitudine egli attenzione lo spirito è unito al padre e al figlio quanto il solo è in sarebbe da sviluppare ma non posso farlo ogni frase è meritevole di un seminario in intimità con il solo non è solitudine di chi manca di chi è stato abbandonato attenzione è la solitudine dell'inizio dell'iniziante dell'irripetibile dell'unico che non è né uno tra molti né molteplici semplicemente ed è abissalmente distante perché noi siamo invece sempre costretti a deciderci tra l'unità e la molteplicità e noi l'unità è sempre diversa dalla molteplicità quindi è questa distanza abissale qualcosa che per noi è inconcepibile e solo in questa distanza e da questa distanza possiamo essere resi nuovi e torniamo al fatto che per grazia si dà l'evento della nostra del nostro possibile rinnovamento può animarci dice Basilio può rinnovarci proprio perché è lontanissimo da noi non è un banalmente altro perché se fosse altro come prima abbiamo detto l'eccedenza sarebbe ricompresso nel molteplici perché il molteplici è fatto di alterità non c'è nulla di particolarmente stravagante nell'essere altro tutto il mondo è fatto di altri da altri quindi il principio non può essere altro è una distanza abissale e cioè e chi mi servo di Cusano è il non altro ecco l'abissale lontananza del principio trinitario che è il non altro per quello noi giustamente dobbiamo come dire sì rimuovere le tenevere no ma questa rimozione è un processo infinito è un processo infinito perché è sempre non altro e quindi ogni volta che noi ci duderemo di averlo trovato non negherà di esserlo quello che abbiamo trovato ma non perché sia qualcos'altro attenzione perché non è un gioco tipo quello che facciamo da bambini il nascondino non sono questo perché sono qualcos'altro no non sono questo non sono altro questo ci dice il principio il cusano il non aliud che non c'è davvero nulla fuori della natura creata questo è il punto che non è qualcos'altro se ci fosse ah c'è uno spazio di esistente che a noi sfugge mannaggia no non è uno spazio di esistenza c'è qualcosa che si attraversa ed è tutto qui tra noi che si agita che ci anima e che è appunto lo spirito divino no è la trinità è che è qui se no non sarebbe da nessuna parte non è che scende giù ogni tanto prende l'ascensore scende giù da noi no non è sopra la nuvoletta del caffè lavazza non è da nessuna parte non c'è un'eccedenza altra c'è l'abissale lontananza di ciò che non è altro e quindi dove vive come diceva Piero alla fine è quell'infinito che vive solo nel finito come il suo non alimentante vivificante ecco perché Basilio è pazzesco secondo me grande filosofo oltre che teologo oltre che un padre sicuramente è quello che è stato ma scrive in Dio padre e in Dio unigenito si contempla per così dire una sola immagine riflessa della divinità virgola senza differenza bellissimo cioè nei tre è sempre lo stesso che si mostra ma in senso proprio diceva il mappiero giustamente rileggendo Rosmini ma secondo me questo Rosmini ha alle spalle tutta questa grande tradizione che poi va portata avanti va sviluppata va radicalizzata allora solo se nei diversi si dà una realissima diversità padre figlio e lo studiato senza differenza allora capiamo cos'è l'unità capiamo cos'è l'unità che i diversi non sono diversi attenzione o meglio sono identici proprio nel loro distinguersi nel loro distinguersi come abbiamo detto prima all'inizio e poi sarebbe da sviluppare ma qui vado a chiudere perché voglio lasciare spazio a Carmelo tanto poi nel testo troverete molte più cose di quello che sto dicendo ma mi interessava soprattutto sottolineare alcuni aspetti c'è un'altra espressione straordinaria di Basilio che ci dice appunto che in fondo nella Trinità c'è diversità ma non c'è molteplicità non è vero che dire diversità e dire molteplicità è lo stesso no perché la diversità della Trinità è una diversità senza differenza invece la molteplicità è una diversità in cui l'essere diverso non si lascia ridurre all'essere identico non c'è verso non c'è verso e allora ecco che io credo che solo attraverso un percorso di ripensamento radicale di questo rapporto straordinario inaudito tra uno e molti possiamo anche comprendere tutte le le invettive contro le eresie no che Basilio e come tutti questi i miei padri appunto giustamente sentono ci sentono un dovere di rivolgere a quegli eretici che per esempio continuavano a pensare nella Trinità come numero subnumerazione dice no e allora se c'è numero ma il numero distingue i tre mettendo uno più importante l'altro meno importante c'è un sub no dice no ma attenzione io qua non vado avanti perché sarebbe un'altra questione grossissima e dice attenzione che però ciò che è numerabile ciò che è numerabile è della stessa qualità si parlava di essenza no Marx ci ha insegnato che il denaro l'importanza del denaro sta nel fatto di rendere scambiabili i merci qualitativamente incommensurabili no posso scambiare le patate con le scarpe cosa hanno a che fare non lo so quante patate ci vogliono per fare un paio di scarpe come lo faccio sapere trovando una qualità omogenea le ore di lavoro o il costo dei mezzi di produzione quello che vogliamo che elimini le differenze qualitative ci consente quindi la numerabilità la faccio breve Basilio dice giustamente giustamente questo è un altro punto che andrebbe approfondito ma io vedo che il tempo passa e sto per chiudere il 3 e il 1 della trinità non sono numeri vogliamo dircelo chiaramente o no Platone lo pensava come numeri ideali voi come volete qui non sono numeri dice non sono numeri perché se fossero numeri non giustificherebbero la differenza tra il padre il figlio e lo spirito sarebbe una stessa qualità in senso astratto proprio e se sono numeri che distinguono rischiano di fare come fanno gli eretici di porre un primato del padre una subordinazione del figlio una subordinazione dello spirito e allora come possiamo pensare una unità che non è unità una motivicità che non è motivicità dicendolo chiaramente una volta per tutte non stiamo parlando di numeri non stiamo numerando come numeriamo le patate i fagioli in questo mondo non stiamo numerando perché se andiamo sul numero non rendiamo ragione in nessun modo di questo mistero di cui mai renderemo completamente ragione ma che io credo sulla base di queste grandi queste grandi testimonianze filosofico e teologiche dovremmo cominciare e come stiamo facendo mi pare a pensare e a ripensare in modo sempre più radicale grazie grazie Massimo grazie a te grazie a tutti grazie grazie